Ai microfoni di AtuttoCalcio.tv siamo con Nicola Ciaia, presidente del Cerchio. Nonostante che quest'oggi è andata male, per il Cerchio resta comunque una grande stagione con una salvezza conquistata in anticipo prima nella storia di questa società. Esatto, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che c'eravamo previsti dall'inizio del campionato, è andato tutto bene con il mister e con i ragazzi. Forse nel calcio si può fare anche di più, però noi ci accontentiamo, speriamo di rimanere tranquillamente in questa categoria e che pure l'amministrazione comunale e tutti ci diano una mano, perché anche ieri la Juniors ha fatto una grandissima partita, è arrivata seconda o terza, non lo so di preciso. Comunque io faccio i complimenti a tutti i ragazzi nostri del mister e pure alla squadra avversaria che ho già vinto a Cerchio. È stata una bella partita, complimenti a tutti. Presidente, qual è il segreto di questo cerchio? Ma veramente i dirigenti, i giocatori e anche la serietà nel comportamento dei giocatori, perché queste categorie si fanno con i ragazzi che ci aiutano anche loro negli allenamenti, nella concentrazione e nel tutto il resto, perché nel calcio purtroppo i soldi mancano un po' adesso. Adesso non è che c'è tanta gente disposta a investire sul calcio. Però tutto lo staff, Vincenzo, il sindaco Gianfranco, poi Tarola, il presidente onorario, che hanno contribuito e tutta l'amministrazione comunale che ha contribuito in questa società, abbiamo cercato in tutte le maniere, affinché abbiamo raggiunto questi obiettivi, perché siamo una neopromossa e abbiamo fatto un grandissimo campionato. Complimenti al mister, ai giocatori e anche a noi che stiamo tutti i martedì, i giovedì, i venerdì qui al campo, insieme pure con la Juniors, a cercare di portare avanti ancora uno sport che piace a tanta gente.